Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori. Metastasi al cervello, muore la grandissima attrice. Stiamo parlando di una delle artiste più apprezzate di tutti i tempi e prima di sapere di chi si tratta vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Non è mai facile annunciare un lutto, ancor di più lo è quando si tratta di un personaggio che era nei cuori di tutti quanti noi. La grande attrice ci ha lasciato una vera e propria perla della nostra infanzia, soprattutto per chi è nato negli anni Ottanta e negli anni Novanta, con immenso dispiacere. Il primavere di Marco Liguori annuncia la scomparsa e la causa del decesso di Susan Somers, scomparsa in vero, il 16 di ottobre, ma soltanto nelle ultime ore rimbalzata dall'America. Una notizia che ha fatto chiarezza sulle cause del decesso di Susan Somers, ma prima per chi non la ricordasse credo siano davvero pochi. Diciamo che Susan Somers, 76 anni, è stata una delle attrici di serie tv più prolifiche degli anni Ottanta e anni Novanta, la ricordiamo. Nelle serie Una bionda per papà e Tre cuori in affitto, Susan Somers era anche imprenditrice e speaker motivazionale, ma veniamo all'attualità, cari amici di YouTube, diciamo che dall'America è appena giunta la notizia circa l'esito dell'autopsia sul corpo di Susan Somers, che è morta a causa di un cancro al seno nel suo cervello. Sono state trovate diverse metastasi, questa è la causa del decesso di Susan Somers, che pare lottasse contro la malattia da ben 23 anni. Ironia della sorte, Susan Somers è morta il giorno prima del suo settantasettesimo compleanno, ma come diceva Giacomo Leopardi, una persona muore soltanto quando muore, l'ultimo ricordo di essa stando a questi presupposti. Non dimenticheremo mai, Susan Somers, una bionda per papà, vivrà per sempre nei nostri cuori e amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti. Grazie.